Ben ritrovati al notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto quali sono gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che il Consorzio Belluno Centro Storico vi invita alla manifestazione Natale delle Dolomiti. L'elenco di eventi è lungo e ricco. Nel Centro Storico di Belluno fino al 6 gennaio vi aspettano tante iniziative natalizie con mercatini enogastronomici e prodotti tipici artigianali. Troverete anche la pista di pattinaggio, concerti e proiezioni in videomapping con effetti spettacolari. Scoprite tutto il calendario degli appuntamenti sul sito www.bellunocentro.it Come da tradizione durante le festività l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi invita domenica 18 dicembre allo storico mercatino Natale in Borgo nel centro di Treviso. Potrete trovare tante idee per i vostri regali e ancora artigianato, creatività, sapori regionali e florovivaismo ma sono davvero tantissime le novità e gli espositori che troverete lungo l'antico borgo. L'appuntamento dunque è a Treviso in Borgo Cavour, Via Canova e Via San Liberale domenica 18 dicembre. Nel 1903 venne brevettato il cono gelato. Il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua, l'italiano e fu proprio un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. L'emigrante Italo Marchioni, marchigiano d'origine, ricevette negli Stati Uniti il brevetto del cono gelato. La diffusione su scala industriale iniziò a partire dal 1912 con i coni che venivano arrotolati a mano. L'introduzione di una macchina in grado di effettuale tale operazione segnò la svolta. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire i sotterranei del Palazzo della Ragione a Padova. Un vero viaggio nel passato nella Padova romana di 2000 anni fa. Visitare quest'area archeologica è una preziosa occasione per scoprire anche com'è cambiata la città dall'epoca romana ai nostri giorni. Gli scavi archeologici effettuati nel 1991-1992 dalla soprintendenza dei beni archeologici del Veneto hanno messo in luce i resti di costruzioni medievali come torri, case fortificate, un palazzo pubblico, un pozzo e un ambiente molto suggestivo, il probabile antico carcere. Ad una quota più profonda poi sono visibili i resti del pavimento in mosaico e dei muri perimetrali di una domus romana di fine I-I inizio II secolo d.C. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per la visione.